L'attenzione della Guardia di Finanza al contrabbando e alla contraffazione non si arresta, anzi grazie all'evoluzione tecnologica ha subito un incremento con una particolare attenzione al web. In tale contesto il nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza durante la costante attività di monitoraggio della rete ha individuato 59 siti e 138 annunci web che proponevano illecitamente l'acquisto di tabacco, sigari, sigarette e liquidi da inalazione per sigarette elettroniche, cartine e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette. Nel nostro Paese c'è il divieto di vendita online di prodotti da fumo assimilati a accessori che possono essere venduti soltanto dalle rivendite autorizzate. L'indagine sul web ha consentito di individuare con precisione le risorse online finalizzate alla vendita illegale di prodotti da fumo, soprattutto allo scopo di identificare i responsabili delle condotte illecite i quali saranno destinatari delle sanzioni previste dal decreto legislativo numero 8 del 2016. Inoltre è utile ricordare che con l'entrata in vigore dell'applicazione del Digital Service Act, volta a creare un ambiente online più sicuro e responsabile, tutti gli intermediari della rete dovranno rispettare precisi obblighi di trasparenza e due diligence finalizzate all'aumento degli standard di responsabilità e sorveglianza. L'attività di polizia economico-finanziera svolta, finalizzata al contrasto delle forme di vendita e promozione legale dei prodotti da fumo attraverso i canali del web, costituisce un importante obiettivo della Guardia di Finanza, che in questo senso ha stipulato un apposito protocollo d'intesa con la Federazione Italiana Tabaccai, finalizzato a rafforzare la collaborazione nella lotta al contrabbando, alla contraffazione di tabacchi lavorati e alla vendita illegale di prodotti da fumo.